Buonasera. Il partito radicale non è rappresentato in Parlamento e quindi non ha mai potuto partecipare alle trasmissioni di tribuna politica. Parteciperà invece fra due settimane a quelle di tribuna elettorale perché ha deciso di presentarsi alle elezioni. Allora sapremo perciò dove vuole andare, ma molti di voi possono non sapere da dove viene. Trasmissione, ecco per lumeggiare un po' la sua storia, la sua ideologia, le sue iniziative, ecco che facciamo, abbiamo fatto questa trasmissione che vuole essere nello spirito della riforma e che come sapete impone alla RAI di aprire il più possibile le porte a tutte le forze rappresentative del Paese. Marco Pannella, leader ispiratore del partito radicale che è qui insieme ad Adele Faccio, presidente del partito, e a Gianfranco Spadaccia, segretario politico, dirà che senza il suo digiuno questa trasmissione non si sarebbe fatta e forse è vero, ma nella sua lealtà Pannella riconoscerà certamente che se il potere è sensibile al sia pur clamoroso digiuno di un suo suddito, è un potere che ha ancora un volto umano anche se ha i riflessi un po' tardivi. Io vorrei subito dire a Giacobelli, perché ha già anche lui toccato questo argomento, oltre che rispondere a te, che è profondamente inesatto che noi siamo tutti qui al servizio di chi ci ascolta perché possa giudicarci e condannarci se del caso politicamente, perché io o meglio ancora 106, 108 compagni radicali per l'ennesima volta hanno con questa civile azione cercato di sottolineare l'ingiustizia, la violenza delle istituzioni rispetto ai diritti della gente, di tutti, di conoscere, per giudicare e deliberare. Siamo qui perché da 20 anni i radicali rappresentano un dato consistente, importante, fondamentale per amici e avversari, credo, di tutta la vita politica italiana. Siamo qui certo oggi perché forse, ad un certo punto mi sono detto che contrariamente alle accuse che mi si possono fare, mi si fanno in alcuni casi, sono stato troppo a lungo complice di questo potere Giacobelli. Noi abbiamo lottato questa volta perché non potevamo consegnare ancora una volta, ancora giorni, ancora mesi a questo potere, alla sua violenza, senza definitivamente avallare il punto di vista di coloro che dicono che la democrazia è una truffa, che i giochi sono truccati, che non è vero affatto che c'è l'eguaglianza dei punti di partenza. Ecco quindi il significato. In fondo la lotta di questi giorni è stata certamente dura, è stata certamente drammatica, ma io credo che ha dato un'once di speranza, ha affermato che chiunque digiuna, chiunque ha sete di giustizia, chiunque ha fame di giustizia e di verità e di altro e di pane deve poter chiedere al potere almeno un principio riparatore. Siamo qui questa sera, non perché ci siamo voluti attribuire questo o quello spazio, ma perché abbiamo preteso che il potere riconoscesse con umiltà e quindi dando una prova di forza, che il mal tolto va in qualche misura, anche se solo simbolicamente, riconquistato.